musica 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 acuna madata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che amrottato dove siamo tornati su minecraft hardcore 3.0 vi ricordate adesso abbiamo trovato il deserto i nostri obiettivi beh magari trovare qualche bella piramidina qualche bel pozzo magari di trovare qualche bel villager e vedere un attimo che cacchio succede signori oggi dovrebbe essere upato insieme a minecraft un vlog molto importante un vlog davvero davvero importante quindi tutti quelli che vanno a guardare minecraft gentilmente andassero anche a controllare il vlog d'accordo perché se no poi mi fate domande che in realtà io già ho detto in un vlog qui si sta facendo notte però io non voglio uscire dal dal deserto è fighissimo il deserto però è un piccolo deserto questo uh là c'è canna da zucchero andiamo a prenderla prima che fa notte andiamo 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 uh però la notte nel deserto è bellissima è veramente veramente figa tantissimo andiamocene qua uh ecco la canna da zucchero incredibili canne da zucchero uh quante ce ne stanno ottimo ottimo vieni qua vieni qua eeeh viva vieni vieni prendi tutto prendi tutto stiamo prendendo si 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 che poi tra l'altro ho visto anche un commento di un ragazzo che si è un po' incazzato e fa ciccio però noi te l'abbiamo sempre detto fatti più farm da canna da zucchero gli slime si fanno si prende sponano la notte ma ragazzo ma guarda che io li leggo tutti i vostri commenti solamente che poi magari me li dimentico e ve li richiedo non è che lo faccio apposta e quindi siamo calmi ok io direi di metterci a dormire il primo scibile per il momento le rocce non mi servono non ci servono quindi andiamocene a ninna vi do una piccola anticipazione di quello che troverete nel vlog poi magari ci sarà pure tutta altra roba questo ancora devo vederlo ci sarà il perché ultimamente non sto registrando più niente cioè avete visto che da sabato da venerdì ho problemi nel registrare semplicemente perché devo formattare il pc quindi vi dirò sia per il fatto delle serie vi dirò anche sulle uppate perché adesso che arriva l'estate staranno per cambiare le uppate sul nostro canale addirittura forse anche l'orario ma non lo so magari l'orario lo lasciamo fisso chi se ne frega quest'estate voglio fare questa prova e tanta tanta altra roba un raduno qua a Roma raga veramente ci sarà tante cose da parlare veramente tante tante l'unica cosa per favore me lo rispiegate perché io non l'ho capito la bussola c'ha la freccia rossa e la freccia nera che cazzarola io devo guardare cioè la rossa mi sembra che devo seguire la rossa quindi se io seguo la rossa qua sto tornando a casa se io seguo la nera e per di là ma secondo me la nera tanto c'ho il 50% delle possibilità di sbagliarmi secondo me mi sono sbagliato tranquillamente quindi noi andiamo se ne vede qua che poi è molto 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 piccolo come deserto ci ha detto un po' di sfortuna perché qua oh là c'è tantissima canna da zucchero io ci vado non resisto veramente non resisto dobbiamo andarci a prendere tantissima canna da zucchero ma poi una cosa che mi avete chiesto ce la siamo presa no non ci siamo presa la la roccia nera adesso non mi viene in mente mannaggia la la street snation la fushin frotation comunque ragazzi mi raccomando tanti bei pollicioni in super minecraft che poi tra l'altro è uno di quei pochissimi giochi che posso registrare e non mi si corrompe il pc e vabbè cioè non mi si corrompe perché per chi non lo sa ho fatto un video della posta di ciccio di napoli del comic con e mi si è corrotto un'ora di video corrotti buttati nel cesso e vabbè può capitare ma diciamo che non deve capitare quindi tra l'altro mi sono comprato un ssd per i più esperti sanno benissimo che cos'è è una periferica di memorizzazione che registra molto più velocemente di un hard disk normale e quindi non dovrei avere più problemi perché a quanto pare i problemi vedete adesso mi ha dato una botta di vabbè succede in minecraft però insomma non dovrebbe succedere qua stiamo siamo ritornati nella savana ed è pieno di polli ciao polli allora ci sono delle pecore che ci guardano tanto noi prima o poi da qualche parte dobbiamo pure andare però sapete che c'è mi dispiace farlo ma sti polletti se ne c'è li devo li devo far fuori ma mica per niente perché mi servono le piume vi ho detto che mi voglio fare un po' di eh mi voglio fare le frecce però vedi quanto spreco però il pollo non ce lo prendiamo così è un peccato però è anche vero che siamo pieni ragazzi oddio posso buttare ste scale cioè alla fine per non sprecare niente oh vedi però le piume me le danno no voglio andare proprio nella savana perché vi ricordate l'altra volta avevo detto è che palle già finita la savana quindi se stiamo riandando nella savana stiamo tipo seguendo quella nera vabbè non lo so non lo so comunque qua è pieno pieno di polli madonna ma quanti polli siamo eh mori poi li sciotto li sciotto tipo male poi vieni 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 qua vieni qua ma l'hanno fatti i mob delle madonna ma quanti ce ne sono è il regno dei polli ma che veramente guardate guardate sono tantissimi guarda 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 quanti mob è bellissimo ma sapete da quanto è che non vedo così tanti mob ragazzi veramente non sto scherzando cioè di solito non li trovo mai però là ci sono delle costruzioni che c'è un un pisello di pietra e vabbè ma dai stiamo esagerando ma quanti ce ne sono vabbè faccio una strage faccio una strage signori faccio una strage perché non ci capiterà mai più secondo me e guarda lui si è avvicinato addirittura per morire che bravo però devo lasciare un po' di fauna locale perché se no poi non si riproducono più vai così che bello che bello e vabbè no vabbè la fauna c'è ho 23 di questi mi sta bene qui siamo quasi pieni va bene vi ricordate che dobbiamo anche uh là c'è la neve ma c'è come cazzo è possibile deserto qua c'è sta tutto pura la neve c'è tipo il mondo mega galattico andiamocene eh non riesco a salire pronto andiamocene per di qua sperando che sotto non si senta un rumore di gente che parla non lascio mai la porta la finestra aperta stavolta ho lasciato la finestra aperta e c'è sotto gente che chiacchiera a me sembra che giusto quindi andiamocene per di qua guardate che bello niente qui andiamo andiamo un'altra volta nel bioma normale e sto seguendo la russa però eh sono confucio pronto io me ne voglio comunque andare per di qua indipendentemente perché secondo me è una gran figata qui c'è della lava che esce dalla roccia e ha preso fuoco vi ricordate le prime volte che vedevo il fuoco mi allarmavo tipo tantissimo perché non sapevo che cacchio era in realtà col fatto che aggiorna e aggiorna dopo pecora non ci non vai non te reggi a casca per far vedere quelli a casa che sei scema cadi dai non cadrà mai vero è tipo la pecora che non cade è la capretta di montagna comunque stiamo facendo i chilometri ragazzi veramente dobbiamo entrare dentro una caverna secondo me se costeggiamo qua è probabile che una cavernetta prima o poi la becchiamo almeno spero vediamo un po' qua per caso c'è un'entrata mega galattica eh in realtà si però sicuro questa si chiude col culo che ci abbiamo noi guarda eh olè chiusa pronto non è che tante volte questa caverna è aperta al pubblico pronto quanto ci abbiamo di carbone 49 oddio un pochino di carbone però ce lo potremmo prendere sì ma mi sembra abbastanza stupito utilizzare questo di diamante perché dobbiamo prenderci l'ossidiana si chiama ossidiana mamma mia che memoria incredibile che ho vieni qua prendiamoci un po' di carbone anche perché ci può servire dato che staremo fuori casa per un bel po' staremo fuori casa per un bel po' eh 50 non mesi un dungeon sì finalmente 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 signori ma finalmente ma finalmente ma finalmente oh però non spona un cacchio te pare il solito culo non sponano cioè qua ci dovrebbero essere scheletri su scheletri per fare un po' di farm ma capirei me ne esce una botta ma quando cavolo affittamo raga cioè non è non è un grande farm perché ehi come gira perché di solito su sti posti qua e dico su sti posti sti dungeon eh dovrebbe uscire molta più gente però cazzo finalmente ci siamo riusciti vieni qua va vieni vieni no non mi conviene farmare così non mi conviene farmare così quindi no mi serve il piccone oh ecco però già che ci siamo visto che ci siamo eh perfetto questa ce l'abbiamo e mi faccio la crafting table va bene questo me lo appoggio qua ho un altro piccone da utilizzare no quindi che facciamo noi ci prendiamo questo e facciamo di questo e ci facciamo un altro picconazzo che abbiamo trovato oh il disco musicale armatura d'oro per cavallo che figa sarà contentissimo bellissimo ci abbiamo del pane polvere da sparo ce la possiamo tenere questo me lo voglio tenere la sella raga io intanto me la porto a casa la sella se hai mai visto che ci potesse ci potesse servire quindi buttiamo il ferro adesso butterei il ferro e qui non ci serve altro furia ombromanto sarà veramente contento oh un disco un altro disco musicale perfetto poi abbiamo della cordicella del grano ma non ci facciamo niente quindi che cosa posso madonna 44 frecce ci abbiamo è tantissimo ecco posso mi butto questo e ci abbiamo un po' di torce che poi tra l'altro rifaccio rifacciamo un po' di torce e magari dico magari ci servirebbe anche no magari faccio ecco ci servirebbe anche dov'è pronto non l'ho fatta allo allo servono torce pronto 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 non me l'ha fatta va bene quindi questo qua lo ritogliamo e ci facciamo le torce queste le buttiamo che se ne frega tanto siamo ricchi ce lo possiamo permettere che dite questa verde me la prendo perché si sapete che faccio ci continuo la caverna vi ricordate la grotta quella magica quella là sicuramente ci servirà quindi io prendo e mi butto questi non ci faccio niente ce ne abbiamo già in abbondanza quindi questa qua ci può servire oh ragazzi sono proprio contento cacchio ma finalmente abbiamo trovato un dungeon oh mamma mia ci voleva il miracolo di san crispino vieni qua oh vieni qua perfetto quindi ragazzi veramente io vi ricordo di andare a vedere il vlog di oggi che è importante veramente 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 importante quindi queste le abbiamo prese quante ce ne abbiamo perché tanto non ce n'è tanta ce ne abbiamo 29 29 ti è 30 metta su già che ce stiamo prendemose pure questa oh a posto dico a posto quanta ce ne abbiamo 33 ah vabbè vabbè so contento perché lo cercavamo un dungeon lo cercavamo qui fatemi fa piano perché se ci inculano ci inculano fatti bene raga ok perché lì ci potrebbe essere oh mamma mia però qua io ho sentito gente qua sentite perché potrebbe essere un'altra grotta collegata e vabbè li sentite sono tanti sono tanti magari oh mamma mia un altro dungeon un altro dungeon e questo ci farmiamo come bestie questo qua ci farmiamo come bestie signori aspetta eh fatemi fare una cosa fatta bene ce la fate vieni 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 aspetta no no vieni qua no è successo il casino è successo e vabbè che cazzo però è successo il finimondo oh qua qua sarete contenti perché me l'avete già detto ciccio ma tu hai sprecato l'altra volta e la possibilità di farti un sacco di farm ci avete ragione ma stavolta non la spreco stavolta non la spreco vieni vieni vai vai vedete per esempio questo questo è fruttuoso come dicevo pronto doveva essere fruttuoso magari tolgo questa pronto eccolo eccolo che arriva eccolo che arriva vai venite belite papà venite venite che farmiamo un pochino bravi bravi fatemi oh cazzo me li spona proprio così va bene qual è il problema non ci sono problemi voi sponate io v'ammazzo vai pa ten 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 stran 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 non spona più nessuno pronto dungeon che dici sponi aspetta che provo ad allontanarmi no secondo me c'ha è difettoso pure questo oh pronto quando sponi eccolo oh e me l'ha sponato con una mazza incredibile mi voleva tipo picchiare brava ok mettiamo qualche torcetta qua perché io sapevo che addirittura io ce le posso mettere le torce qua e comunque mi dovrebbero sponare a prescindere proprio oh guardate questi sono tipo spawn all'aria aperta vabbè niente ma qui le casse dove sono uè no no non facciamo scherzi ah dicevo ma che davvero datemi le mie le nostre fottute casse ah bello ma che te pensi che non so che c'è stanno le casse che me nascondi qua sotto non vedi questo oh mortacci tua però spawnate una volta siete pure vigliacchi eh siete anche un po' vigliacchelli eh fammi vedere se c'è l'altra nascosta perché della volta ce n'è anche una sola delle volte anche altre volte potrebbe sì tranquillamente che l'anima di rimortacci tua eh ma ragazzi ce ne vedete mi sono messo paura qua veramente qua mi sono messo paura aspetta fatemi toglie sto stronzo ecco muorici eh allora che c'abbiamo qua armatura di fello di fello l'armatura di fello allora prendiamo prendiamoci l'armatura di fello per il cavallo e che cacchio mi butto mi posso buttare mi butto che cacchio ne so abbiamo butto questo ma sti cavoli poi che ci abbiamo la polvere da sparo che poi non so perché me la sono portata dietro e il resto ce lo lasciamo eh ci prendiamo un po' di questa quindi prendiamoci questa qua nel frattempo signori io vi dico che l'appuntamento di oggi può finire qui se il video vi è piaciuto pollicione in su commentate condividete se avete consigli mi raccomando datemeli abbiamo trovato finalmente due dungeon oh non ci voglio credere abbiamo farmato un pochettino anche se questi dungeon erano un po' farlocchi non lo so il perché eh qui l'altra cassa non credo che ci sia magari c'è stava una sola cassa va bene signori pollicione in su commentate condividete andate a vedere anche l'altro vlog andate a vedere il vlog ciao